Com'è che si scrive? To God To Chi siamo? Dove sei? Chi siamo? Siamo Fabrizio Carlotta E oggi vi presenteremo Too Good To Go Mi ho detto lei perché io non lo so dire Che cos'è? Che cos'è Too Good To Go? Too Good To Go è un'applicazione per il vostro smartphone Incredibile Su cui potete fare affidamento per non sprecare il cibo Ovvero Il cibo? Come funziona? Come non si spreca il cibo? Allora lo mangi Dopo vai in bagno Consiste essenzialmente nell'ordinare attraverso una piattaforma del cibo Una box che dovrebbe costare intorno ai 15, 10, 20 euro E pagarla dai 2 ai 4 euro In questa box i locali che collaborano con questa applicazione Mettono una serie di cibi che invece dovrebbero buttare I locali che dovrebbero buttare questo cibo non è che buttano cibo che sta scadendo O che è scaduto È che è finita la giornata Non è che il giorno dopo propinano alla gente il cibo che hanno messo Che hanno fatto la mattina prima Si avvicina a lettra Ho paura Mangiamo cibo No ci fanno anche le foto Non è possibile Mangiamo cibo che in realtà andrebbe sprecato Andrebbe buttato E nel fare ciò diventiamo dei West Warriors Avete presente quando la mamma vi dice Mangia gli spinaci Pensa ai bambini poveri Adesso non ci stiamo pensando mamma Ci stiamo pensando Cosa? Perché la magia è tutta intorno a te E il mondo magico ha bisogno di te Non devi parlare Non devi parlare Perché siamo così simpatici Che qui c'è tutta la redazione Che pensa che noi così spontanei In realtà stiamo facendo un video Osservati dall'intera redazione E completamente in imbarazzo In stalla Che è esattamente dove andrà Elettra In stalla Il sedano si è aperto Oh bustina carina Continuiamo con un'email Qual è la mia mail? Scrivete questa mail Sono Ali Carlotta It's me Sold out Aiutateci a trovare una box Sold out Sold out Ok paura Dolce mania Dalle due Mi piace vai quella Scopri cosa c'è interna a te E attiviamo la localizzazione Così ci risparmiamo un bel periodo Di base Quello che vedete qui è il nome del locale In che fascia oraria possono andare a essere recuperate le box E quanto è lontana da dove vi trovate E questo è sopra il prezzo originario Di quanto dovrebbe costare le cose contenute nella box Ovvero intorno ai 10 euro E questo è il prezzo per cui lo si paga Dato che altrimenti andrebbe sprecato 3 euro Quindi abbiamo preso Un bel panificio E acquistiamo ora una box E anche perché tenemo fame Io ho fatto colazione mezz'ora fa Qua ce la compriamo Perché tenemo fame Compra tutto Qualsiasi cosa Grande Carlotta Riprendilo Qua il rispetto Non c'è Non c'è Andiamo a prendere il nostro pacco Vuole il mio pegato È narcotrafficante Carlotta con quegli occhiali Qualcuno vuole il mio pegato Adesso mi metterò con la faccia sopra quel coso Questo è questo Sì Non ho convalidato la ricevuta perché non sapevo bene La ricevuta si è convalida La convalida Che ti dà Ah ok perfetto Perfetto Ok Te la vado a preparare Ok Grazie mille Scusate mi spiego Grazie Fabri Dov'ai In ufficio Ho capito ma a piedi Sì Ma no ma siamo al teletrasporto Ah è vero Aspetta aspetta Via Ok Arrivati Arrivati Ok Siamo arrivati Siamo tornati Abbiamo il nostro pacco A forma di pacco Benissimo Abbiamo tovaglioli Tovaglioli E un salto nel vuoto Panino alla mortazza Panino alla mortazza Panino alla mortazza Vai A te l'onore Sento questo Sì c'è un odorino o niente male È l'una e mezza Una crescente Con lo stracchino anche sopra Cotto Penso che sia con lo stracchino Invitante Sì si sento anche l'odore di stracchino Vero Fac a match Un'altra crescenza Che battuto Un'altra crescenza Cipolla Ah che meraviglia E Tacchino Tacchino Questo sarà il nostro pranzo I prodotti artigiali Che andrebbero buttati Ma che noi Noi mangeremo Direi che la userò Io la uso Diventate anche voi The Waste Waters Flash giovani Dà il suo marchio Di approvazione Però si mangia